Napoli, Napoli Fashion Week Alessandro Di Laurenzio, cuore e motore di questa grande manifestazione che si terrà a Napoli, diciamolo subito, 17, 18, 19, 20 marzo, San Domenico Maggiore, il cuore del centro storico di Napoli, uno dei luoghi più visitati dai turisti qua dove vengono nella nostra città. Alessandro Di Laurenzio stamattina qui a Villa Lucrezio nel parco della Rimembranza, del parco virgiliano, come adesso si dice, come adesso diciamo, il parco dei nostri sogni, presenta il calentario di Napoli Fashion Week 2022 e 22 e ci dice qualcosa in anteprima anche sulla manifestazione sul momento del 17, 18, 19 e 20 marzo 2021, appuntamento con la moda, con gli stilisti, con le modelle, con l'arte, con la cultura. Bene, allora, ringrazio voi tutti per l'intervento di oggi, quello che comunque tengo a precisare che questo evento di Napoli Fashion Week Art è dovuto principalmente al sostegno da parte delle istituzioni e colgo l'occasione di ringraziare il sindaco Manfredi, l'assessore Teresa Armato, Toti Lange, il consigliere comunale Toti Lange, il dottor Pacifico. Oltre a questo, quello che comunque possiamo anticipare di quella che comunque sarà l'edizione primaverile di Napoli Fashion Week e senza altro l'intervento da parte di un gruppo di stilisti comunque di spessore nazionale e internazionale. Detto questo, diciamo, c'è molto fermento anche in ambito modelle e in ambito comunque partenopeo cittadino per quella che comunque è la novità del caso.